Allora prendo spunto da questo per chiedere a tutti i nostri concittadini di cambiare in maniera sensibile i propri comportamenti di vita. Dalle questioni semplici, maggiore pulizia, lavarsi le mani 10-20 volte al giorno, evitare il contatto ravvicinato, evitare di toccarsi con le mani, frequentemente la bocca, il naso, gli occhi. Vi è un'ordinanza che prevede che non si possa circolare liberamente per le strade se non per motivi di urgenza. Andare a fare la spesa, i padroni dei cani, sono codificate. Quello che è vietato è passeggiare, cioè chi va in giro senza motivi di urgenza e senza motivo è passibile di tre mesi di carcere e di un'ammenda fino a 200 euro. Queste misure non vengono ancora messe in atto. E cioè si può passeggiare purché si mantenga un metro di distanza. Questa è un'idiozia. Non si può camminare per strada senza ragione motivata da parte del cittadino. Costringeremo tutte le persone individuate a circolare senza motivo a fare la quarantena di 15 giorni. Cioè ti trovo in mezzo alla strada, ti trovo a passeggiare sul lungomare, ti trovo stravaccato sulla panchina, quindi in condizioni che chiaramente non segnalano emergenze, ti obbligo a questo punto a stare in quarantena per 15 giorni. C'è una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Ma è una festa di laurea. Ma fatela fra due mesi, tre mesi, quattro mesi. È incredibile. Ricordate le immagini dei giovani che facevano la movida? Tutti allegri, ammucchiati l'uno sull'altro. Magari dopo aver bevuto dallo stesso bicchiere. Tutti allegri all'insegna del chi vuole essere lieto sia. Di domani non c'è certezza. Bene. Chi vuole essere lieto sia. Quelli che volevano essere lieti dieci giorni fa, adesso se ne sono andati lietamente negli ospedali. E hanno mandato in ospedale lietamente i loro papà, le loro mamme, i loro nonni. Possiamo decidere di vivere allegramente, ma il risultato dopo dieci giorni è questo. Chi vuole essere lieto sia. E poi se ne va in ospedale. Siccome dalla protezione civile, dal dipartimento hanno risposto che ci avevano mandato 700.000 mascherine, allora, amici cari, vediamo che capirci bene. Quelle di cui parla la protezione civile sono queste mascherine. Le 700.000. In Campania sono arrivate 552.000 mascherine. Queste cose. Beh, ci vuole veramente una fantasia, diciamo, accesa per definirle mascherine. A meno che non si pensi, diciamo, alle maschere che usano i nostri nipoti al carnevale. Questa va bene, ma è maschera per banni. Sapete, il coniglietto. Non me la metto io per non pregiudicare in maniera definitiva quel poco di estetica che le ingiurie del tempo mi hanno lasciato. Ma se ve la mettete, le vostre orecchie escono da queste fessure e avete la faccia di banni il coniglietto. Allora, ragazzi, facciamoci un sorriso anche in momenti difficili, ma non le chiamate mascherine. Per quello che mi riguarda, ma è una scelta mia individuale, ho scoperto che hanno una grande efficacia per pulire gli occhiali, diciamo, le lenti. Sono veramente un prodotto eccezionale. Ma negli ospedali, vi voglio bene, vi voglio bene, per l'amor di Dio. Ciao, Bert. Grazie.